Weee! Non fare il babbo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra, sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODARONE! DAGLE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video! Io sono XIUDAR e ragazzi oggi 30 dicembre 2019 siamo arrivati ad un traguardo incredibile per quanto riguarda il mio profilo di Fortnite. 200 giorni di shop completo per festeggiarli insieme visto che non sappiamo se andremo avanti oppure no con questa cosa. Volevo finalmente fare il video del mio armadietto costoso! Costoso! Non l'ho mai fatto ma l'avete chiesto per mesi e mesi? Allora eccolo qua ragazzi! Lo state vedendo armadietto dello XIUDAR! Vi ricordo io gioco dalla season 1 di Fortnite o delle cose non tante della prima season ma non so come si fa quindi vedrò insieme a voi le skin che meritano un pochettino di più. Alcune delle mie preferite sicuramente il cacciatore dei cieli veramente meraviglioso l'ho preso quando è uscito mi è piaciuto tantissimo per poi magari passare anche a qualcosa di un pochettino più succulento e collezionabile come il cavaliere del ragno ribelle. L'ho ottenuto con un pack americano della Xbox abbiamo poi andando avanti un sacco di altre cose ad esempio la skin Eone il bundle il primo bundle di Xbox anche questa leggendaria un John Wick ragazzi season 3 una delle mie skin finali preferite veramente tanta tanta roba. L'abbiamo chiamato tutti John Wick da sempre e rimane per i nostri cuori anche che l'assassino sempre John. Eccolo qua ovviamente anche il John originale Krampus un'altra delle skin uscite proprio nei periodi natalizi. Volevo tantissimo averla e finalmente ci siamo riusciti. Come dimenticare poi season 4 il Leviatano ragazzi mamma mia tanta tanta roba o anche malevolenza che è una delle skin leggendarie secondo me più fatte bene in assoluto e mortafiamma questo ce l'abbiamo tutti ce lo davano e non ce l'abbiamo tutti no però lo si prendeva nella season 6. La prima skin ad essere reattiva Omega ragazzi una delle skin più rare per quanto riguarda ovviamente la fase finale quindi quella con i led viola perché è stata l'unica skin che non si poteva completare nella season successiva sono molto contento di averlo. La mia skin preferita in assoluta ragazzi la prima che ho shoppato a febbraio del 2018 il Ranger dell'amore con tutto il suo set deltaplano piccone e motte e veramente tanta tanta roba mi è sempre piaciuto tantissimo anche il Rex e andando avanti vediamo un po' cosa c'è sicuramente il Dark Vertex fa parte ovviamente di un di quei pezzi collezionabili che fanno la differenza. Abbiamo tutta la serie poi di skin speciali il Polar Legend Pack le skin di Batman ragazzi Batman Forever in my heart tanta tanta roba le skin anche della Marvel il Black Widow lo Star Lord e poi ci sono ovviamente tutto il set completo di Star Wars Kylo Ren l'assaltatore imperiale Finn il soldato Sith bla 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 bla. Andando avanti ragazzi un'altra delle skin passando a quelle epiche che mi fanno un sacco piacere animale da palcoscenico subito vicino all'assassino aerobico mi piace veramente tanto anche questo set che richiama molto gli anni 80. Per quanto riguarda invece i set completo anche il set degli alpini li abbiamo praticamente tutti scendendo un pochettino più avanti bellissimo anche il bundle dei Borderlands con la skin Bandito Psycho e anche Bandoliera una delle skin più interessanti per quanto riguarda la sua rarità. Il Bombardiere Reale che oramai tutti avrete ma è stata la mia prima skin presa nei bundle quelli speciali. Completano anche tutto il set dei giocatori di Rugby facendo vedere semplicemente Blitz ma lo abbiamo tutto così come abbiamo tutto il set degli Orsacchiotti Castore. Un'altra delle mie skin preferite perché ha i tre stili quello di ghiaccio e quello di fuoco e anche Cicuta mi piace tantissimo perché ha anche le Mott inclusa che la trasforma in strega malvagia come stiamo vedendo appunto in questo momento. i due conigli di Pasqua tanta tanta roba Cracabella anche la skin shoppata l'anno scorso a Natale Dante skin rare uscite solo due volte nel giorno dei morti in tutti e due gli anni e una delle skin più brutte che penso pochissimi abbiano copiato e comprato la skin custom. Andando avanti vediamo un pochettino cosa c'è di interessante che possa piacermi o che possa essere raro Heidi mi è sempre piaciuta un casino. Ho anche Ludwig che è la parte maschile con tutto il suo set e passo velocemente ad Incubanni skin di questa Pasqua della Pasqua 2019 un pochettino strana per quanto riguarda il set ma tanta tanta roba bellissimo anche l'orsetto leader squadra spaventosa ed eccolo qua come vi annunciavo prima Ludwig sto guardando abbiamo i due teschi il milite teschio e il milite bruciatore e tanto tanto belli anche i pagliacci. Notte notte e bubu set e continuando a scendere ragazzi operazione divertimento come non poterla ottenere tutta sbrillucicante tutta carina e andando ancora più in basso sto guardando che cosa vale la pena di essere controllato. Mamma mia ad oggi non ho il set completo degli hippie o solamente lui non ho mai preso lei e non ho neanche il loro deltaplano quindi un pochettino mi dispiace non averlo qua completano il set degli alpini gli altri alpini ovviamente. e andando avanti mamma mia il tenero difensore quanto divertimento ad avercelo proseguendo ragazzi un'altra skin che va collezionata vasco integrale molto molto bella il motociclista praticamente blu e un'altra skin che mi piace tantissimo è Willow quindi fa parte anche questa del set di Nightmare. andando avanti abbiamo il bundle oscuro il Rex oscuro il Jonesy e la squadra speciale Triceratopo e scendendo un'altra delle skin più ignoranti e meravigliose di questa collezione Brat. il Salsicciotto 8-8 altro set completo sono i calciatori zombie insieme anche ovviamente ai calciatori normali tanta tanta roba mi piacciono molto anche le skin della season 2 quindi cheaper ad esempio vediamo se ne passano altri calciatori come vi dicevo completi sia maschili che femminili un'altra skin ignorantissima è ovviamente Dolph una recente uscita davvero tanto tanto carina come non menzionare il guaco il Tacos che nelle ultime season del primo capitolo sembrava prendesse una certa rilevanza nella storyline e invece poi è caduto tutto altra skin della season 2 interruttore molto molto interessante proseguendo 3 Sunday in proseguendo ovviamente nome in codice Elfo bellissima e anche questa distrutta per la rarità con il nuovo bundle Polar Legend lui ce l'abbiamo un pochettino tutti dai pesce secco con le varie altre skin e i vari suoi stili per scendere poi fino ad una delle mie skin preferiti di rarità rara che è il costume rivolta andiamo avanti altra skin season 2 scout ricognitore e in season 3 sergente decorato molto molto bello mi piace tantissimo anche spezza cuori febbraio 2019 è una delle skin che non si vede più da più di 200 giorni spina dorsale mi dispiace molto di non avere il suo deltaplano mentre ho invece il non avere il suo piccone mentre ho il suo deltaplano il set di due baschettari tiro in sospensione e tripla minaccia molto molto carino e andando avanti ancora sicuramente c'era da qualche parte anche la skin eccola qua ragazzi riflesso furtivo quindi il bundle della skin della scheda grafica Nvidia GeForce per poi passare alle skin non comuni tutto il set completo anche per quanto riguarda le skin uscite per la World Cup 2019 set completo anche per le quattro skin arrivate nel periodo natalizio pochi giorni dopo Natale proprio mi piace molto tra queste skin le varie skin appunto dedicate al Natale ma molto belli anche i due soldatini e come non menzionare il pattugliatore di pezza scendendo leggermente ci sono altri skin della season 2 addirittura questa season 1 rinnegato molto molto bella e il sergente grigliatore mi piace davvero tantissimo insomma ragazzi una collezione di skin che conta quasi 600 skin da dirvi che mi manca solamente una skin leggendaria arrivato ad oggi che è quella della regina dei ghiacci non ho tempo di farvi vedere ma faremo altri video per i deltaplani per i balli per i picconi che anche lì sono veramente tantissimi e vi volevo dire appunto anche che oltre alla skin leggendaria che mi manca che è quella di regina dei ghiacci purtroppo non ho scioppato il pass in season 2 e quindi non ho il cavaliere nero e ahimè non ho neanche il primo twitch prime pack dove c'era la skin leggendaria che ora non riesco a ricordare il nome insomma ragazzi tanta tanta roba per questo armadietto io ne sono molto orgoglioso e devo ringraziare anche voi che ogni tanto anzi molto spesso mi aiutate a completarlo spero che questo video vi sia piaciuto vi mando un abbraccione noi ci vediamo sempre in live ciao